Va subito davanti Ripper Jet su Roger Jure Sem, Ranieri a largo che sbaglia, sbaglia anche Ratatouille Hans e così rienda suelta in terza posizione. Ripper al comando, Roger di rincalzo, rienda suelta, Ranieri in esso lontano, Romanov B, 200 in 13 e 6, quali che vanno ad affrontare la prima curva con Ripper in vantaggio, Roger di rincalzo, rienda in terza posizione davanti a Ranieri, 400 passati in 30. Tirato subito Riem in barca Ripper Jet, Roger Jure lo segue da vicino precedendo rienda suelta all'esterno della quale muove Ranieri e intanto i 600 in 46 abbondante, c'è un 16,3 di terza frazione sul mio cronometro per Ripper Jet, che ora torna ad aumentare sensibilmente la cadenza sull'avanzata esterna di Ranieri, 800 coperti in 1,1 e mezzo, un 15 per la quarta frazione. Roger Jure segue lungo la corda su rienda suelta e poi Romanov B che cerca di riprendere contatto con il gruppetto. Intanto il chilometro 1,16 appena abbondante, Ripper al comando, Ranieri all'esterno di dentro, Roger, poi rienda suelta. Siamo a 400 alla conclusione con Ripper che allunga e va via ora su ritmi importanti, Ripper Jet, sbaglia, Roger Jure SM. E allora Ripper su Ranieri e poi... Numero 2, Roger Jure SM, squalificato. Ripper Jet in vantaggio, poi Ranieri, rienda suelta. Ripper Jet prosegue in totale e assoluto controllo. E vince facile davanti a rienda suelta, regola Ranieri, quarto posto per Romanov B. Io ho due minuti spaccati, quindi la media dovrebbe essere intorno all'1,15, c'è un 29 per gli ultimi 400 metri, Ripper Jet da favorito con Lorenzo Alessi, treni di Olga Relert, i colori della scuderia Volotea. 1,62 la quota al totalizzatore.